E' finita i rigori con la vittoria delle forze dell'ordine, la lunga partita per la vita dedicata a Mario, un bimbo di soli 6 anni affetto da una rara forma di tumore al cervello, che lo ha costretto a una lunga degenza ospedaliere e a cure custosissime. L'unica speranza per Mario è quella di sottoporsi ad un delicato intervento in Inghilterra, da qui l'idea di una quadrangolare calcistica per aiutare e sostenere la famiglia del piccolo, organizzata ad Alassio presso lo stadio Ferrando, dall'associazione ECLAI con il Comune, l'Istituto Don Bosco e le forze dell'ordine. E' capitata l'occasione di organizzare ad Alassio questo torneo, una partita per la vita, un gol per Mario, abbiamo detto giochiamo anche noi, ho fatto parecchie telefonate, parecchie mail ai colleghi dei Comuni Limitrofi, hanno partecipato in maniera attiva e eccoci qua a giocare per una buona ragione. Questa partecipazione devo dire che è in grande stile, ci sono praticamente rappresentati tutti i Comuni del nostro introterra, dalla zona di Albenga-Alassio e quindi direi che c'è stata un'ottima risposta a questa richiesta di aiuto, sperando che vada tutto bene. Albenga partecipa perché l'iniziativa è una iniziativa molto lodevole, positiva, quindi è giusto esserci, dare un contributo in una situazione in cui chiaramente va vissuta con allegria ma per uno scopo che invece è veramente importante, quindi insomma è bello esserci. Uniti in questa significativa raccolta di fondi per far vincere Mario e la sua famiglia nella più difficile lotta contro questo terribile male. Una bella giornata, una bella giornata di sport, una bella giornata di iniziativa, siamo qui per aiutare questo ragazzo, questa è la prima di questa iniziativa, nel senso che è la prima sportiva, ogni anno la ripeteremo per cercare di andare sempre incontro alle esigenze di chi è più sfortunato di noi. Vincere la prima edizione, un gol per Mario, una carità della vita, la squadra è a forza e nell'ordine, i carabinieri, i familiari e i amici, tutta la squadra è premiata dalla sessuale nostra, dalla sessuale nostra, dalla sessuale Pionio e della sessuale Cremi, venite qua e fate una cosa tutti insieme. Un grande applauso.